Allora, signor Cancelliere, dov'è l'imputato? Allora, Presidente, mi permetta, il generale Piura non prenderà parte a questo processo. Perché non prenderà parte? Ha scritto mettere a tutti i dignitari e a tutte le corti europee e adesso non si presenta? No. Perché il generale Miura non riconosce questa commissione. No. Non riconosce questa commissione. Vuol dire che procederemo senza la sua presenza. Cancelliere, metta verbale che il generale francese Joachim Miura...